Amici di Viaggi in Bici, vogliamo ricordarvi che domani a Napoli apre la Bicycle House, un nuovo concept tutto dedicato alla bicicletta, con un bike caffè e una ciclofficina. E ci saranno tantissimi eventi grazie agli amici di Napoli Bike Festival, che per l'occasione ne faranno una versione unplugged. Sabato una sfilata dei Babbi Natale in bicicletta. A Verona invece, in Piazza Bra, un mercatino dell'artigianato di pregio. Tutte le altre informazioni le trovate su viaggiinbici.com. Buon Natale e buone feste a tutti. Ciao! Grazie a tutti!